Laura Chiatti e Marco Mbocci a Milano Red Carpet, look abbinati Total Black, foto. Laura Chiatti e Marco Mbocci sfilano insieme e si lasciano fotografare belli e sensuali. Innamoratissimi, sul Red Carpet a Milano. Entrambi sono fashionisti con i look abbinati Total Black firmati da Dolce e Gabbana e Deitro. I due non bucano la tessissima presentazione del calendario Pirelli 2023, la 49esima edizione di The Calla è dedicata alle donne. Laura e Marco osservano rapiti gli scatti della fotografa australiana Emma Summerton. L'opera è intitolata Love Letters to the Muse, raccoglie 28 scatti di 14 personaggi femminili ritratti in un'ambientazione fantasy. Quasi onirica. Tra le modelle ci sono Emilia Tchaikowski, Bella Hadid, Ashley Graham e Adwoa Abouin. Famosissime, idee moderne del mondo della moda e non solo. Che bella sera stasera, scrive la Chiatti a commento della notte appena vissuta. L'attrice 40enne è felice accanto al marito 44enne da cui ha avuto i suoi due figli. Enea, nato il 25 gennaio 2015, e Pablo, venuto al mondo l'8 luglio 2016. Laura Chiatti per l'occasione indossa uno smoking nero con giacca croppede e pantaloni leggermente a zampa. Sotto un corsetto che le lascia la vita scoperta e il raso. I capelli sono sciolti con la riga in mezzo. In black ha anche bocci, con la giacca con ricami portata aperta, l'attore, regista e scrittore conserva il fascino del maco con i capelli portati lunghi. La barba all'apparenza incolta e occhiali con le lenti leggermente sfumate.